fermano il dog sitter di chiara ferragni in strada la sua reazione è inaspettata le immagini sono andate in onda nella trasmissione pomeriggio 5 con mirta merlino su canale 5 artefice del siparietto il giornalista michelle desi è ormai un mese che chiara ferragni e fedez non si mostrano fuori da casa centellinando qualsiasi dichiarazione da quando esattamente è scoppiato il caos attorno al caso balocco con l'influencer accusata di promozione ingannevole di beneficenza e oggi indagata dalla procura motivo per cui a michelle desi inviato di pomeriggio 5 è venuta una idea fermare in strada il dog sitter che si occupa di portare ogni pomeriggio a spasso il cane in collegamento lo studio di roma con mirta merlino che faceva il tifo per le gesta del suo giornalista ma andiamo con ordine per chi si fosse perso qualche puntata tutto comincia infatti metà dicembre quando il giornalista desi si piazza sotto casa di ferragni per provare a intercettarla dopo il caso dei pandori una missione che si rivela impossibile eppure da quel giorno non è mancato un giorno in cui non è tornato regolarmente sul luogo del delitto un atteggiamento che non è piaciuto a fedez che ieri ha provocatoriamente chiesto se i giornalisti fossero interessati alla pupù di paloma il cane di famiglia oggi la replica è arrivata con uno sfottò appostato come sempre per le strade di city life quartiere prestigioso di milano desi ha affermato il dog sitter che ogni pomeriggio porta a spasso il bellissimo labrador vuoi vedere paloma ha chiesto a mirta certo è bellissima ha risposto lei anzi in filale un messaggino nel collare per chiara tipo messaggio nella bottiglia quindi desi si è avvicinato all'animale al dogister non voglio disturbare neanche chi lavora non voglio essere invadente ha detto approcciando all'uomo la reazione dell'accompagnatore seppure spiazzato è stata di piena comprensione e ha fatto sì che il giornalista potesse accarezzare un po il cagnolone un atteggiamento insomma contrario rispetto all'irruenza mostrata dal rapper ieri pomeriggio qualche inquadratura e portato a casa il video desi si è allontanato ma non prima di lanciare una frecciata ai ferragnez chiusi in casa ormai da un mese in attesa di trovare un modo per arginare il danno reputazionale l'hanno portata a giocare almeno lei esce e si fa vedere poi il saluto al dog sitter mi scusi se l'abbiamo disturbata e lui se n'è andato allontanandosi con la gentilezza del caso una scena che è diventata presto virale in rete tra chi si fa una risata e chi sostiene che il siparietto era però evitabile ti è piaciuto il video iscriviti al canale metti un like e attiva la campanella